Buongiorno a tutti vicini e lontani, 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 vicini, lontani, vicini, vicini, lontani e che dire, buongiorno, sono qua a Marina Iulia, luogo turistico per eccellenza di Mo Falcone sono qui a prendere un po' di sole, facevo una giretta, vediamo un caffè e poi si va a casa a riposare, oggi sono cotto, con allegria sono quelli uccelli di lavoro non sono quelli di bellezza, boh, è che dire voi, vi ricordo il 6, una grande serata con il maestro Candoni, prossimamente farà altre per le due serate, ma una fa a Fogliano, no? Il 6? Il 6 a Fogliano e l'8 a Chiedo di San Lorenzo Aronchi Chiedo di San Lorenzo Aronchi alle 4 e mezza, boh, di queste due puntate il maestro fa la serata sono qui, oggi non lo faccio vedere, il maestro è in contemplazione del spettacolo si prepara per le serate, per gli eventi, perché sennò lo intervistiamo ogni giorno e dopo dice, qua stanno sempre che mi intervistano, no, no, è la Mamma Rai che lo intervista, purtroppo ma prossimamente anche il Mamma Rai sarà che viene registrato boh, amici miei, ho un po' i capelli alla fa, boh, spero che state bene odiamo Falcone a millissima giornata, o sole, mi raccomando, perché qua c'è più pioggia c'è la casa chiusa in dentro, prendiamo un po' di aria il mare è calmo, c'è un po' di velato c'è un po' di aria ma non c'è la bora di 130 come è triste boh, amici miei, mi raccomando iscrivetevi Franco Tonzo, per il fin dell'anno c'è un tiramola di iscritti chi uno si iscrive poi si cancella, non so chi è tirerò le orecchie a quello che si becco chi mi si iscrive poi si cancella boh, saluto tutti, saluto i miei amici, mie amiche saluto Santa Antonella Nardini saluto la Tiziana da Gorizia la Ivana da Fiumicello e tutti voi, vi auguro una buona giornata fatti bravi, iscrivetevi, 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 iscrivetevi vi voglio bene ciao a tutti e che dire, devo cambiare modo di dire non più, è che dire eccomi qui, eccomi qua, devo trovare la parola boh, sono po' gli occhietti piccoli, ho dormito un'ora e mezza stanotte ho fatto la notte in bianco, purtroppo, e vabbè sono già 20.000 passi, 22.000 sicuri spero di riuscire a casa, non arrivare a 40.000 perché se no, veramente, c'è un cotto ciao Daniela, ciao Rita, benvenuti nel mio diario ci sono altre persone, quando cambio location tutti mi guardano, sono contento boh, sarebbe da cambiare location ogni giorno boh, aspetta, adesso riesco a far vedere qualcosa oh, la la, vediamo, ci riesco ecco qui, qua è il mare il mio falcone, quando è d'estate, è pieno e vabbè, sono qua il mare mi rilasso un po', mi faccio un caffè grazie dei primi like che mi date spero che state bene e forse coraggio ciao Jenny, questo è il mare di Marniaiù il mio falcone oh mare oh mare oh mare, quanto bello si stira sentimento vorremmo ci rilievo perché sennò domani nevica boh, amici miei ciao a tutti e a tutte se vuoi andiamo a se la accetta e ditiamo quando volete potete iscrivervi e accettare la condivisione spero che state bene e qua è il mare tu hai la comprida io qua a Marniaiù questo è il mare di Mofalcone non è grande e bello come il tuo ma già boh, amici miei buona giornata un bacio a tutti e a tutte fatti bravi ricordo il 6 e l'8 una a Ronchi e l'8 e l'8 no maestro? il 6 il 6 e l'8 il 6 a Fogliano all'ora 18 ecco ore 18 diceva e invece alle ore 16 ore 16 giorno 8 nella chiesa come ho detto prima mi raccomando fate i bravi iscrivetevi vi voglio bene grazie ancora di tutti e tutte un bacio fate i bravi e mi raccomando iscrivetevi ciao a tutti da Mofalcone Pantano dal maestro e tutti vi voglio bene ciao a tutti e i cantanti tutti che seguono il maestro un grande abbraccio bacio e a presto ciao ciao